Andiamo con un disco, anche questo contro la violenza sulle donne, che si chiama nessuna conseguenza di fiorella mannoia, e intanto parliamo con il nostro amico Luca Sifu Bertoncello, che tra l'altro spiegami cosa vuol dire Sifu. Sifu ha due significati nella nostra accademia, il primo significato è quello di insegnante, inteso come proprio colui che ti insegna, insomma ti guida verso un percorso, è un termine cinese chiaramente. L'altro significato che viene dato è quello di un grado tecnico, un vero e proprio grado tecnico che si acquisisce dopo abbastanza anni di pratica e dopo un percorso piuttosto lungo di studi, insomma, quindi ha due significati, ecco, in Cina viene visto a volte come il primo significato senza il secondo, noi teniamo tutti e due significati, perché è corretto che sia e ci distinguiamo un po' da tutto quello che c'è in giro per questo doppio significato. Ok, è come in altre arti marziali che hanno altri nomignoli, diciamo così, adesso non me ne va bene in mente o no? Sì, esatto, è un titolo di fatto, è un titolo, abbiamo tutta una serie di, abbiamo due percorsi, percorso allievi e percorso trainer. Il percorso trainer sviluppa il 5 gradi trainer, dopo di che si arriva il grado di Sifu, che è quello dove devi fare l'esame, eccetera, eccetera, e dopo c'è l'ulteriore grado di Master, che fondamentalmente equivale a maestro, Sifu è ancora insegnante, trainer è fondamentalmente, diciamo, istruttore, allenatore, bravissimo, proprio quello che volevo dire. Ok, quindi non so se l'avevi già detto prima, che correggimi se sbaglio, questa arte marziale è nata dove? Quest'arte marziale è nata in Cina, la leggenda Nara circa 400 anni fa, ha una storia un po' particolare, nel senso che si è stata creata e sviluppata da una donna, da una monaca guerriera, Mui, che faceva parte di un complesso di monaci all'interno del tempio di Shaolin del Sud. A seguito del rogo avvenuto in questo tempio, alcuni sono scappati e tra questi la monaca Mui ha sviluppato questo sistema, che si prefiggeva di andare contro quello che era la disciplina vigente al tempo, dove era molto astrobatica, larga di movimento, eccetera eccetera. Invece questa monaca ha sviluppato l'opposto, cioè un sistema molto corto sui movimenti, molto rapido, molto istintivo, dove non si arriva e non serve tuttora forza muscolare, nel senso che chiaramente un po' di potenza serve, ma non serve massa, non è che uno più grosso ha vantaggio su uno invece meno grosso, e da lì si sviluppa. Poi successivamente è passata alla sua allieva Yibin Zun, da cui ha preso anche il nome e la disciplina, fino ad arrivare ai giorni nostri, passiamo 350 anni in velocità, fino ad arrivare ai giorni nostri, con Bruce Lee, che ha iniziato, tanti non lo sanno, ma ha iniziato con Yibin Zun, la pratica, dopodiché ha creato il suo sistema, il suo stile, non stile, chiamiamolo così, che era un po' più cinematografico per quello che gli serviva a lui, lui gli interessava la parte cinematografica. Yibin Zun, ahimè, anche se noi siamo stati nel 2015 a Italia's Got talent, non è in me molto cinematografico, mettiamola così, e ultimamente, gli ultimi anni, è venuto fuori anche abbastanza a conoscenza il suo maestro Yibin, di cui si sono trattati in parecchi film, insomma, anche andati in onda in Italia, quindi rispetto al 2004, quando ho iniziato io la pratica, adesso è un po' più conosciuto sicuramente. Ok, e se qualcuno volesse documentarsi, magari volesse leggere un libro, hai un libro di riferimento che vorresti consigliare, oppure? Sicuramente sul nostro sito internet ufficiale della scuola, www.vtaminoi.org, c'è anche un testo sulla storicità della disciplina, quindi quello sicuramente. Ok. Dopodiché ci sono tante cose su internet, però come spesso accade, ci sono un sacco di interpretazioni, anche perché comunque Yibin Zun fino al 1850 circa è stato tramandato oralmente, quindi ci sono come tantissime cose in Cina. Poi ci sono tante origini, tante fonti e c'è molta confusione in giro, devo essere sincero, c'è molta molta confusione. Io stesso ho fatto degli studi, sto facendo degli studi anche per, in proiezione, di fare il mio grado di master dove dobbiamo presentare praticamente un libro, chiamiamola tesi, ma in sostanza è un libro, quindi sto facendo molti studi e ripeto, c'è molta molta confusione. Poi con ci sono informazioni, comunque per quello che ci riguarda, anch'io sto proponendo del materiale didattico da fornire ai miei allievi o comunque anche su richiesta, non c'è nessun problema, dopo eventualmente lasciamo anche i contatti, quindi se uno vuole ulteriori informazioni volentieri ci contatta e li vediamo.